Abbiate pace con tutti. 12 agosto 1973 Figli di Letti e cari, sono qui a rivolgervi una parola breve e semplice per prepararvi a festeggiare con gioia. La mia assunzione in cielo. Vi vedo molte volte sfiduciati e affranti e vi odo proferire parole di disperazione che tanto mi addolorano. Mi ricordano questi vostri momenti di desolazione lo sconforto del profeta Elia, che pregava il Signore che lo facesse morire, poiché non ce la faceva più a continuare. Ma un angelo del Signore, indicandogli una focaccia e dell'acqua, gli disse, alzati e mangia. Glielo disse e glielo ripetè. Elia ubbidì, e quel cibo e quella bevanda gli servirono, e poté camminare per 40 giorni senza prendere altro. Figli miei, anch'io vi ripeto con insistenza e con amore. Vi invito ad accostarvi all'Eucaristia con grande desiderio e con grande purezza, perché è questo il pane vivo disceso dal cielo che dona forza, salute e gioia. E vi invito a fare della comunione, il centro della vostra giornata. Vi dono poi il pane della mia parola, che voglio che accogliate con riconoscenza e con desiderio, di tramutarla in opere di perfezionamento personale e in opere di bene a favore dei fratelli. Sì, è un pane genuino e saporito, che molte volte viene sciupato dall'abitudine o dal dubbio, o da quella trascuratezza che è talvolta colpevole. Sappiate impegnarvi, figli, perché dovete temere che non si ripeta per voi questo dono, e che venga dato come talento a chi meglio lo sappia far fruttare. Con questo pane e con l'acqua salutare delle mie lacrime, di cui faccio dono a tutti coloro che sono nel dolore, vi assicuro che sarete abbastanza forti per procedere con serenità lungo il vostro cammino. Il mio Gesù è Dio d'amore. Io sono la regina della pace e la madre del divino amore. E il nostro desiderio è che tutti gli uomini siano felici, siano in pace con Dio, col prossimo e con se stessi, perché solo così possederanno la gioia vera. Dovete perciò in questi giorni mantenere nelle vostre relazioni con Dio quella pace che è esclusione del peccato. Pensate che sia molto difficile peccare? Ma come dovrebbe essere inammissibile offendere colui che è la bontà per essenza? Egli non vi comanda che ciò che è bene ed utile per voi. Ma come si può ribellarsi ad un padre così buono, ad un legislatore così saggio, ad un re così condiscendente, che lascia perfettamente liberi i suoi sudditi? Basterà un po' di buona volontà e il desiderio di vigilare attentamente sui propri pensieri, affetti ed azioni per non cadere. Se poi per debolezza doveste sbagliare, con quanta misericordia il mio Gesù vi accoglie per perdonarvi. Ma ascoltatemi bene. Molte volte le vostre preoccupazioni sono causate dalle persone che vi circondano, dai figli o dal coniuge, per i quali perdete la pace. E che cosa potete fare voi se non siete ascoltati, se non siete ubbiditi e se chi vi dovrebbe amare non vi ama? Volete disperarvi e perdere l'anima per essi? Figli, c'è un mezzo per parlare ai cuori ed è la preghiera. C'è un altro mezzo, ed è quello di offrire a Dio le vostre lacrime e le vostre sofferenze perché i vostri cari si rabbedano. Quando avete edificato con il vostro buon esempio, quando avete pianto e pregato, state in pace. I vostri cari si ravvedranno solo per la grazia di Dio. Non saranno i vostri discorsi e le parole infuocate o cattive che rammolliranno i loro cuori. Abbiate pace con tutti. Esercitate la carità, anche quando vi sembrerà di dover difendervi o di dover fare giustizia. Non siate mai litigiosi, poiché le liti, le divisioni, i rancori, gli odi, sono tutti prodotti che derivano dal maligno e chi li usa non fa che assecondare la sua opera. Non vedete come invece di costruire, si demolisce l'edificio spirituale, coltivando nel cuore rancori e odi? E come si potrà aver pace? Come si potrà accostarsi a ricevere colui che disse, se qualcuno ha qualche cosa contro di te, va a rappacificarti con lui prima di fare la tua offerta? Quante comunioni senza frutto e peccaminose, perché non si vuol perdonare? Abbiate pace, figli, perché anche a voi Gesù possa dire, beati i pacifici perché possederanno la terra. Quale terra possederete se saprete custodire la pace? Avrete uniti al vostro cuore i figli, i familiari, i parenti. Quante volte un'amarezza interiore non fa che esplodere in continue critiche e cattiveria a scapito di tutti. Svuotate, figli, il vostro cuore da tutto ciò che sa di cattivo e immettete tutto ciò che può garantirvi la tranquillità. Dite a Gesù, dammi di quell'acqua bevendo la quale non avrò più sete. Vi è in alcune persone una sete inestinguibile di vendetta. Fate che l'acqua dolcissima che uscì dalla ferita del cuore del mio Gesù ed il suo sangue, che voi ricevete nella comunione, siano come un potente estintore che spenga l'incendio delle passioni umane. Vi preparerete così e l'assunzione sarà per voi una grande solennità. Arrivederci, figli. Vi benedico ad uno ad uno e vi amo. Vi benedico ad uno. Grazie a tutti.